L'agricoltura è un pilastro portante della nostra economia, una delle più grandi eccellenze del Made in Italy riconosciuta in tutto il mondo. Siamo circondati da paesaggi agrari ed ogni giorno portiamo nelle nostre tavole i prodotti delle aziende agricole dei nostri territori. Ma chi sono le persone, le famiglie, le aziende, motore propulsore dell'agricoltura italiana? Chi è oggi l'agricoltore che i nostri bambini disegnano con il cappello di paglia in testa e la forca in mano? L'agricoltura oggi conta oltre 711.000 imprese agricole. In Veneto sono quasi 62.000. L'agricoltura è un settore dinamico, in costante rinnovamento. Molti giovani intraprendenti oggi decidono di fare dell'agricoltura la propria professione. Basti pensare che nel 2020 nel Veneto si sono registrate 3.166 imprese agricole giovanili. L'agricoltura italiana è sempre più guidata da donne e nel Veneto le imprese agricole femminili rappresentano il 22,8% con oltre 14.000 unità. La nostra agricoltura è un organismo articolato che cammina a due velocità. Da una parte c'è il tempo naturale, quello delle stagioni e dei cicli vegetativi. L'agricoltore è colui che conosce la natura e se ne prende cura, con rispetto. Mentre dall'altra abbiamo un'agricoltura che corre alla supervelocità dell'innovazione tecnica e della ricerca. L'agricoltura italiana oggi è sinonimo di tecnologia e digitalizzazione. Applicazioni che dialogano con i satelliti, con le centrali di controllo, macchine avanzate con tracciamento GPS e performanti per un'agricoltura di precisione. L'agricoltore si affida alla tecnologia per ottimizzare le lavorazioni in campo per un'agricoltura più sostenibile. Oggi l'agricoltore è una figura di elevata professionalità. La formazione scolastica superiore universitaria in ambito agrario è capace di preparare tecnici specializzati che andranno a inserirsi nei diversi ambiti aziendali. L'agricoltore è una figura tecnica che rispetta rigidi protocolli per garantire la qualità delle produzioni e la tutela dell'ambiente e del territorio. Le aziende agricole oggi sono realtà complesse. La parola chiave è diversificazione. All'interno dell'azienda agricola 2.0 si possono trovare tante attività. La coltivazione e l'allevamento, la produzione di energia sostenibile, l'attività agrituristica, la trasformazione dei prodotti e la loro vendita diretta e le attività didattiche per bambini e famiglie. L'agricoltura come insieme di persone, famiglie e aziende è parte di un sistema totale in sinergia con il territorio e le comunità.